buongiorno buongiorno oggi è martedì 2 giugno festa della repubblica rassegna stampa in breve per video 33 in regia mohamed al masmoudi intervento dei vigili del fuoco di sere intorno alle 20 nella zona di layon fiamme che hanno seriamente danneggiato il maso un terciuc nella zona come detto di layon poco vicino poco lontano dall'abitato di chiusa un una persona è rimasta ferita in modo lieve dopo circa due o tre ore la situazione è ritornata sotto controllo diamo un'occhiata alle aperture le aperture quotidiani che troviamo oggi in edicola il corriere dell'alto adige ci si occupa di profughi bisogna attivare i medici l'allarme arriva da maximilian benedicter che parla di rischi per l'igiene pubblica risponde l'assessore marta stoker tutto è sotto controllo festival dell'economia patto di stabilità il ministro apre agli spirali pado andi cioè le regioni virtuose potranno comunque investire fumata nera nel vertice nel vertice tra spagnoli e stefanelli strada in salita riguardo la formazione della nuova giunta comunale questa è la lettura del corriere dell'alto adige mentre mentre il quotidiano alto adige parla parla di una fuma una un pranzo all'insegna dell'intesa proprio tra il sindaco spagnoli e la rappresentante delle ecosociali cecilia stefanelli in apertura ci si occupa dei problemi dell'ospedale di bolzano c'è il ponte ospedale in tilt centro di prenotazioni chiuso visite specialistiche a singhiozzo i vertici dicono così abbiamo risparmiato una notevole quantità di denaro a live se i grillini aprono al programma del sindaco bianchi affollato incontro pubblico e poi tensione tensione ieri al brennero la gendarmeria fa la voce grossa tra virgolette occupati i binari nel senso che i gendarmi hanno presidiato e i binari in territorio italiano è dovuto intervenire il questore da bolzano scuola in lutto morta la professoressa freia doga severa e bravissima la docente di tedesco era una istituzione insegnò a lungo al liceo torricelli è tutto è tutto per i quotidiani che troviamo oggi in edicola come sempre io vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di video 33